Ciao, allora questo è un video così, giusto così per fare, perché mi è arrivata il pacco della Redook e io volevo far vedere appunto cosa ho preso. La cosa buona di questo sito è che se non ti va bene, che pochi lo fanno, se non ti va bene quello che ti è arrivato, se non ti piace, se non ti va bene come taglia, lo puoi comodamente rimballare e rinviarglielo. E puoi scegliere se avere un'altra cosa in cambio, non so, una maglia per esempio, una maglia dello stesso modello di maglia, però con una taglia diversa, o essere rimborsati. Quindi questa è una cosa positiva. Con la maggior parte degli ordini ti inviano dei regali, può essere una borsa, può essere una cinta, può essere una maglia, un vestito, qualunque cosa. A me questa volta mi hanno mandato una borsa. Questa borsa qui, arancione. È enorme, cioè è proprio enorme. Vabbè così, cioè tranquillissima, con le due tasche per il telefono e non lo so, due tasche. Non c'è la nera, qui. Ah, questo è fatto così, cioè c'è questa catena. Sia qui che qui. Per la primavera secondo me è ottima. Questo era il regalo. Poi ho preso, allora, ho preso, una, un top, no, una canotta bianca. Semplicissima, una canotta bianca. Questa è l'ordine primavera, cioè del catalogo primavera-estate. Cosa abbastanza leggere. Poi un'altra canotta. Questa però è grigia e nera. fatta abbastanza lunghetta, fatta così, grigia e poi qui c'è la banda nera. Di quelle che è davanti è più corta, così, semplicissima, abbastanza leggera. grigia, grigia con la banda nera. Poi... una gonna. che è così, è nera con di pizzo, con questo pizzo qui. è fatta con sotto e una semplice gonna, cioè c'ha... con... una semplice gonna con sopra, appunto, la rete, questo pizzo. Molto, molto carina. E poi ho preso... Ah, i prezzi ve li lascio nell'info box, che non me li ricordo. E in più vi lascio anche il sito, nel caso volete darvi un'occhiata. ho preso queste scarpe qui, color corallo, che sono il 39 e io avevo ordinato il 38. Vabbè, poi vedo come... Poi vedo. Comunque si sono semplicissime con l'elastico. Questo era tutto, questo era il mio ordine. Ripeto, nell'info box vi lascio il link del sito, così potete andargli a dare anche un'occhiata su cose per... su capi di abbigliamento per adesso, maglioni, cioè roba invernale. e vi lascio i prezzi di quello che ho preso, se vi può interessare. Questo era tutto, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!